Questo è un raggio catodico, è la tecnologia alla base dei vecchi televisori a tubo catodico che fino a qualche anno fa erano i tipi di televisori più utilizzati nelle nostre case. Il come genera l'immagine è incredibile dal punto di vista tecnico, guardate. Carissimi, molti di voi guardano i video di Jopop ma non sono ancora iscritti al canale e me lo dicono le statistiche di YouTube. Pensate che il 45% dei watchers non sono iscritti, quindi potremmo essere praticamente 2 milioni se vi iscriveste tutti. Tanto è gratis. Dateci una mano, grazie e torniamo a noi. Per capire il funzionamento di questo oggetto dal fascino retro, dobbiamo necessariamente spiegare che cos'è il cosiddetto tubo catodico e come crea i raggi catodici, perché sono proprio loro che creano le immagini sullo schermo. Allora, il tubo catodico, in origine, nasce come uno strumento per vedere come si comporta l'elettricità in un ambiente privo di aria. Per dirla in breve, si nota che queste condizioni creavano una luminescenza e dei raggi luminosi tra i poli dello strumento. Negli anni successivi, gli scienziati che hanno lavorato a questa tecnologia hanno capito che, se veniva applicato un campo elettromagnetico a questi raggi e indirizzati verso una superficie fosforescente, si potevano creare delle immagini in base all'intensità del campo magnetico. Questa è stata un'invenzione incredibile e rivoluzionaria, perché si è potuta usare come supporto di memoria, come strumento di misurazione elettronica, per registrare immagini e appunto come schermo televisivo. Ma com'è fatto concretamente questo tubo catodico? È fondamentalmente un tubo di vetro, al cui interno viene creato un vuoto. Ai suoi due estremi sono presenti un polo negativo e un polo positivo. Se viene applicata una tensione, una differenza di potenziale, questi poli sono in grado di creare un raggio invisibile di elettroni che vengono accelerati dal polo negativo a quello positivo, generando appunto il raggio catodico. Il raggio, nella sua corsa, attraversa un foro e degli elettromagnetiche, che generano un campo elettromagnetico che permette di focalizzare e di guidare il fascio in una direzione specifica. Quando il raggio di elettroni colpisce la superficie opposta, che è rivestita di fosforo, ecco uno degli elementi chiave, ovvero un composto chimico che, se colpito da luce, o come in questo caso da elettroni veloci, emette fotoni, che cosa succede? Si crea l'immagine sullo schermo. Ma guardiamo, andiamo a vederlo praticamente. Prendiamo in esempio la TV a colori, perché il suo funzionamento differisce un po' da quella in bianco e nero. Il tubo catodico delle TV si chiama cinescopio e prevede un polo positivo e un polo negativo. Il catodo è un cannone elettronico, che no, non è un'arma di Star Wars, un cannone che contiene degli elementi in tungsteno, che, se attraversati da una corrente elettrica, si riscaldano e emettono elettroni. In una TV a colori ne sono presenti ben tre, che generano fasci per ogni colore primario, rosso, verde e blu. Teniamo presente che questi raggi sono invisibili in realtà, noi li coloriamo per semplificare. Quando accendiamo una vecchia TV, che succede? Succede che il cannone viene attivato e gli elettroni vengono attratti dal polo positivo. I raggi nella loro corsa attraversano due bobine elettromagnetiche, la prima è chiamata di messa a fuoco e la seconda di deflessione, e hanno il compito di indirizzare il fascio nella posizione giusta dello schermo. Per ricreare i colori, la superficie dello schermo viene rivestita da tre tipi di fosforo diversi, che appunto sono in grado di emettere i colori rosso, verde e blu che abbiamo detto poc'anzi. Quindi cosa succede? Quando partono i raggi dal catodo, le bobine flettono il raggio da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, e lo fanno tra 60 e 120 volte al secondo, dipingendo letteralmente l'immagine sullo schermo. Il tutto viene regolato da una scheda elettronica chiamata raster, che converte il segnale analogico che arriva dall'antenna. Se rallentiamo il tutto, vediamo che il raggio colpisce una piccola porzione dello schermo, ovvero un pixel, che a sua volta è composto dai tre fosfori. Tipicamente nelle tv a tubo catodico ce ne sono in media 200.000. A poca distanza dallo schermo è presente anche una maschera in metallo forata, che ha il compito di bloccare e assorbire gli elettroni che non sono sulla traiettoria giusta, e che causerebbero confusione nei colori visualizzati. Cioè, praticamente non si capirebbe nulla, ecco. Quindi sostanzialmente il fascio viene usato come un interruttore che accende e spegne il fosforo corretto, ricreando tutti i colori dello spettro visibile. Andando avanti nel tempo, i televisori hanno fatto molta strada, no, dalla loro invenzione, e oggi abbiamo diverse opzioni, tra cui scegliere quando si tratta di acquistare una tv. Le tv a tubo catodico sono state le più comuni per oltre mezzo secolo, e va anche detto che la qualità dell'immagine non era poi così male. Ma quali sono le differenze con le nuove tecnologie? Beh, possiamo tranquillamente dire che il principio di funzionamento, anche se si è passati dall'analogico al digitale, è rimasto del tutto invariato. Anche nei televisori più moderni le immagini si formano per accensione e spegnimento dei pixel, solo che sfruttano una tecnologia diversa e chiaramente molto più sofisticata. Una di queste, la conosciamo, è quella a LED. Queste tv utilizzano una serie di diodi LED come fonte di luce per illuminare lo schermo, dove ogni singolo pixel è composto da tre LED colorati. Per vostra informazione LED significa Light Emission Diodes, appunto, diodi di emissione di luce. In questo caso, la scheda elettronica converte il segnale digitale in 0 e 1, inviando un segnale di accensione e spegnimento a ogni singolo LED, proprio per ricreare il colore desiderato. Ma per massimizzare le sue proprietà, i LED devono essere supportati da un pannello di retroilluminazione, che serve ad aumentare la luminosità delle immagini, che in assenza, appunto, risulterebbero proprio morte, spente, ok? Insomma, il televisore è davvero uno strumento incredibile, uno strumento la cui evoluzione è ancora in corso, come abbiamo visto, ma poi io mi chiedo, chissà dove arriveremo? Cioè, dove è il futuro? Penso agli ologrammi, penso ai laser, vedremo. Io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su GioPop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie a tutti!